Quindi qui è Montefalco, qui si fa la pausa pranzo, la terrazza sul lago, ma andava Carlino, si buttate sotto? Salve ragazzi, è scappato la catena, quando si è ripartito, ma andava, oh, Carlino, mannaggia, perché te lo buttate sotto? Va a ammazzare? Eh, ma sarà cresciuta l'erba, ma lì giù che è quel paese? Ma è apposta, ma vedi che Andrea, di questo diceva Castagnita Andrea, ma vedi anche l'altro bel paese, e poi quella valla, quella è grande, guarda c'è il lago lassù, vedi là, là c'è il lago, guarda. Scusa, qui non è verso? Che ne so, io penso che sia sopra il muciello, ma non lo so. No, tu dici? Eh, ora si vede quando lo scarico, la Galmi, vedo il paese più vicino qual è. Insomma, se ne ha fuori tutta la notte, non sta bene. Ma l'avevo messo dopo la cosa, dopo la scelta, dopo la scelta, dopo la scelta, perché non sto per i partire a questo? Grazie mille, grazie mille. Grazie.